Sapete qual è la domanda che mi hanno fatto più spesso dopo che sono arrivato terzo nel campionato del mondo di slopestyle? Andrei a Rampage? Bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video Allora prima di iniziare facciamo una piccolissima parentesi Siccome voglio cercare di coinvolgervi come pubblico e siccome mi piace un sacco il feedback che mi state dando Tutti i commenti, tutte le condivisioni, parole a voce che mi date quando vi incontro, insomma tutto Vorrei però interagire ancora di più con voi Mi è venuto in mente e ho detto cavolo ma sarebbe fantastico se riuscissi tutte queste persone a dargli uno spazio nel video Ecco avete presente tutte le mie intro che a un certo punto, in qualsiasi momento capita, dico sigla Però prima sigla Sigla! Sigla! Prima sigla Dopo la sigla Sigla! Sigla! Ecco la cosa che potete fare tutti è prendere il vostro telefono, il vostro smartphone o gopro o qualsiasi telecamera che avete E registrare proprio questa cosa che io di solito faccio in tutti i video o lo fanno gli altri Dove dovete semplicemente dire solo e esclusivamente sigla Quindi ogni volta metterò il vostro video dove direte sigla Mi raccomando siate originali e inviatemi i vostri video nella mail che trovate sotto in descrizione Bene! Non distraiamoci, partiamo subito col dire Che cos'è il Rampage? Partiamo da far capire a tutti voi perché magari c'è tanta gente che si è appena iscritta al mio canale o comunque non segue tantissimo il mondo della mountain bike Che non sa nemmeno che cos'è il Rampage Il Rampage è una gara, tanto per iniziare La più grossa e importante competizione di freeride al mondo Ma che cos'è il freeride? Il freeride è una disciplina, una branchia della mountain bike che semplicemente non è né dirt né DH né downhill Ma è un modo di scendere dalla montagna, perché si parla sempre di discese in montagna Nel modo più creativo possibile È un po' una gara fuori dagli schemi se si può dire così il Rampage Si potrebbe definire questa gara la gara più nazi di freeride Se avete visto i miei video precedenti sapete che cosa vuol dire nazi Comunque questa competizione avviene nel Zion National Park Che si trova nel deserto dello Utah Da quanto tempo c'è il Rampage? Anch'io mi sono informato perché sapevo più o meno le date Ma per sicurezza per ogni vi è stupidato La primissima versione del Rampage è avvenuta nel 2001 Però la curiosità è che non per tutti gli anni è stato fatto il Rampage Nel senso che nel 2001, 2002, 2003, 2004 è stato fatto il Rampage Poi c'è stata una pausa fino al 2008 perché il rischio della gara era troppo alto Quindi hanno interrotto per questi 4 anni la competizione Poi è ripreso, però non è stato fatto per tutti gli anni Hanno fatto 2008, 2010, 2012 ancora Dal 2013 fino invece al 2019 tutti gli anni La cosa interessante di questa gara è che ogni anno, tanto per iniziare il Montepremi è salito ogni anno Siamo partiti dal primo anno che era 8.000 dollari di Montepremi Totale, complessivo, quindi per tutti gli atleti Quindi se arrivavi primo magari erano, non so, nel primo anno sono stati 3.000 dollari Il secondo prendeva 2.000 Fino ad arrivare a completare questi 8.000 totali L'ultimo dato che ho trovato è nel 2016 Che il price money complessivo del Rampage era di 200.000 dollari Non che il primo si prende 200.000 dollari Però era diviso per, non so, per quanti atleti venissero pagati Secondo me anche tutti in quel caso Non ho mai partecipato al Rampage Però ve lo posso dire perché comunque nello slopestyle Da quest'anno, per esempio, tutti gli atleti che partecipano ai Crankworks Tutti vengono pagati Più sei alto in classifica, più il tuo premio in denaro è alto Però siamo in 14 nei Crankworks E tutti a 14 veniamo pagati Anche se l'ultimo prende cifre abbastanza risorie Però tutti sono pagati Comunque vi fa capire che nel 2016 200.000 dollari divisi magari per 18 rider Il primo si porta a casa una bella fetta Non so dirvi quanto, ma un bel po' 2017-2018 non ho trovato quant'era il premio in denaro Però vedendo com'è cresciuto negli anni Sicuramente è salito ancora Perché dal 2012 c'è stato un incremento del premio in denaro di 40.000 dollari 55.000 dollari 75.000 dollari nel 2014 100.000 dollari nel 2015 E poi per arrivare a 200.000 dollari nel 2016 L'altra domanda che magari in tanti di voi si pongono è Ma perché è così tanto rinomato il Rampage? Beh, allora potete capire che il rischio in questa competizione è altissimo Lo dice il fatto anche che l'avevano interrotto dopo il 2004 Fino al 2008 era stato interrotto Sei su comunque montagne dove tutti i percorsi sono molto esposti a burroni e robe del genere E cadere non è proprio il massimo Ma oltre al fatto che è molto pericoloso E anche perché è l'unica vera competizione di freeride che esiste al mondo Un po' di anni fa ne facevano qualcun'altra Ma l'unica che è stata portata avanti tutti gli anni è questa Più il fatto che comunque da sempre è sponsorizzata Red Bull Ha fatto crescere ancora di più live Il seguito della gente eccetera eccetera Ma quello che direte voi è Ma di preciso che differenza c'è tra una competizione come quelle che fai te e Rampage? Io faccio Slopestyle mentre questa è una competizione in freeride La differenza sostanziale è che nello Slopestyle i salti sono anche un pochino più piccoli del Rampage Anzi sono più piccoli del Rampage Ma è proprio la tipologia di salto che è diversa Nel senso che nello Slopestyle è tutto perfetto, tutto preciso Gli atterraggi sono lisci, larghi, senza sassi I salti nel 2019, quest'anno, erano giganti, non si può dire niente Ma sono precisi quindi tu puoi fare la gara con una bici da dirt o da Slopestyle Quindi con poca escursione E infatti si vedono tantissimi trick È costruito apposta per fare questo tipo di evoluzioni E tra l'altro nei corsi di Slopestyle Se il corso è costruito veramente bene In teoria non devi mai toccare il freno o pedalare Quindi sono proprio fatti apposta per lasciare il rider concentrato sui trick Invece il freeride, come vi ho detto all'inizio del video È una specialità free ride Come dice la parola stessa Girare liberamente, nel senso che bisogna inventarsi e avere creatività intanto che si scende Infatti anche qui i salti sono giganti Ma il terreno non è liscio I salti non sono così precisi Quindi devi essere bravo a calcolare la velocità Fare trick è difficilissimo Ed è per quello anche che si usa un bici da downy Perché ti serve tanta escursione per ammortizzare gli atterraggi Questa è la principale grossa differenza tra le due competizioni È anche vero che comunque negli ultimi anni Anche il Rampage ci sono varie discussioni su questo aspetto Nel senso che il Rampage nei primi 4 anni era proprio considerato freeride Freeride puro Quindi le linee c'erano Ma in alcuni punti era veramente scendi dalla montagna Salti giù delle rocce a caso e andavi Poi però dal 2008 fino al 2016 Era diventato un pochino troppo artificiale come contest Nel senso che l'organizzazione costruiva sempre tantissime strutture Iniziava a somigliare quasi a uno slopestyle un pochino più grosso Cosa che non vi ho detto è che tutti i rider devono costruirsi la linea Quando un rider arrivava dove è situato proprio il Rampage Trovava già delle strutture fatte Lui poi doveva costruirsi una linea Perché tutti i rider si costruiscono una linea a Rampage Ma aveva già delle strutture fatte Quindi obbligatorie E poi invece ti costruivi il resto della linea come volevi Invece negli ultimi anni hanno reso la montagna completamente libera Nel senso tu vai giù dove vuoi E ti scegli te la linea E' ritornato diciamo alle origini Ai primi anni Quindi proprio free ride Ma adesso Un pezzo di pollo da mezzogiorno di me è rimasto Adesso però arriviamo al punto clou del video Lo avrete intuito dal titolo Andrò a Rampage Dopo essere arrivato terzo al campionato del mondo dei slopestyle E la domanda che mi è stata fatta da un sacco di persone è Ma Toto non fai il Rampage? E la risposta è No Perché? Dovete capire che dopo un certo livello In qualsiasi disciplina Si diventa veri e propri atleti E per essere un atleta Ti devi preparare Devi essere concentrato Tu ti alleni tutto l'anno per fare risultati Per fare certe gare Nel mio caso In questo momento della mia vita Non mi sento assolutamente preparato E pronto per una gara come Rampage Nel senso che Da quando ho iniziato a girare in dirt realmente Cioè ecco Diciamo una cosa Io in realtà ho iniziato facendo appunto Downhill free ride Non me ne fregava niente di fare tempi E arrivare giù a 200 all'ora E fare il tempo Ma Ho iniziato proprio in bike park Con Bici da free ride Mi piaceva un sacco girare in bike park E intanto che scendevo a trickare Però appunto Abitando in città E quindi non avendo la possibilità Di girare spesso in free ride Avevo comprato una bici da dirt E dal 2010 Io ho girato solo Esclusivamente in dirt Mi sono gasato E sono andato avanti solo nel dirt Quindi Non avrebbe senso Per come vedo io le competizioni Perché comunque Ricordatevi che Essendo una gara Uno rischiosa Quindi non si va là a giocare Seconda cosa Si stai confrontando con i migliori al mondo Non è che puoi andarla E essere Il pollo di turno Che non fa niente E poi Terza cosa Anche gli obiettivi personali Io partecipare Semplicemente a una gara così Per avere la nomia E di aver partecipato Non me ne frega niente Se io partecipo a una gara È perché ho degli obiettivi In questo momento Non ho obiettivi Per il rampage Non è nella mia testa Assolutamente Non lo escludo Per un futuro Assolutamente Non sto dicendo quello Però in questo momento Nella mia carriera E della mia vita Non è Una mia priorità Tra l'altro Argomento Strettamente connesso a questo È Per partecipare al rampage Come si fa? Non è che vai lì Dici Oh bella Vengo a girare No non funziona così Come nel Campionato del mondo Di slopes C'è tutta una Gerarchia di eventi Da fare L'ultimo scalino Di questi eventi È appunto Red Bull Joy In un altro video Vi spiegherò Come funziona tutto L'FMB Ve l'avevo promesso Non l'ho ancora fatto Ma lo farò adesso Quest'inverno Non è che c'è una classifica Perché non c'è un vero Campionato di freeride In questo mondo Ma ci sono degli inviti Sono mi sembra i primi dieci Dell'anno prima Sono invitati Rampage Più Quest'anno Non so neanche io Come funziona Fino a un po' di anni fa Era esclusivamente Su invito Delle organizzazioni Del rampage Che vedeva i video E ti invitava O comunque Erano tutti rider Conosciuti Avevano già un anno mia E li invitavano Invece negli ultimi anni Hanno anche preso Dei rookie Chiamiamoli così So che inviavano un video Per far vedere Le loro capacità Da questo organizzatore Di preciso non vi so dire Quanti ne prendevano Quanti ne prendevano Anche perché ogni anno Veramente questo regolamento Cambia un po' È un po' a sé Mi ricordo che 4 anni fa 4-5 anni fa C'erano delle qualifiche O addirittura delle prequalifiche Adesso non mi ricordo Di preciso bene Ma c'erano un sacco di rider Invitati O comunque che potevano andare Comunque il range Era molto più ampio Rispetto ad adesso In cui invece sono invitati In 18 persone Massimo Quest'anno Hanno invitato sempre I primi dieci Non mi ricordo quanti Però poi Hanno fatto anche Un evento Red Bull Proving Grounds In cui tu potevi Vincere una wildcard Per partecipare Al Red Bull Joyride È il primissimo anno Che lo fanno Questo tipo di evento E quindi anche il primo anno In cui tutti noi Vediamo come funziona Tra l'altro questo evento Non è neanche stato trasmesso In diretta Per vedere le run E ho capito che Sostanzialmente Era un contest Con salti Non assomigliava molto A Rampage Perché i salti Ok erano grossi Ma assomigliava Praticamente A un percorso A slopestyle Perché gli atterraggi I salti Erano veramente larghissimi Erano soltanto Adattati alla bici Da Downy Infatti hanno invitato Un sacco di rider Di dirt Nei primi tre Allora Primo Reed Boggs Secondo Uno sconosciuto Che non vi so dire il nome No scher Un certo Johnny Salido Terzo DJ Brent Cosa penso di questo evento Allora sicuramente È un lato positivo Che facciano eventi Di questo tipo Trasparenti Quindi Puoi anche te Qualificarti per un eventi Così grossi Perché fino adesso Come vi ho detto Gli inviti a Rampage Erano Beh c'è quello là Che ti manda l'invito Sì sembrava Festa di compleanno Che solo i pochi eletti Potevano partecipare Invece In questo modo Anche se non sei nessuno Ma sei forte In free ride Vai lì Ti fai valere Nel Proving Grounds E puoi andare a partecipare Di sicuro farò anche Il video poi Dopo Rampage Di analisi Delle varie rampe Rampage Così vi faccio anche capire Di preciso Di che cosa stiamo parlando La cosa più importante Che non abbiamo detto Di questo evento È che si terrà Quest'anno Il 25 ottobre Basta Fatemi sapere anche Nei commenti Se avete apprezzato Questo tipo di video Che ovviamente È un video Molto parlato Poco riding Però pensavo Di fare un video Comunque interessante Per magari spiegarvi Aspetti Che tanta gente Non sa Secondo me Tra l'altro Io personalmente Che sono andato a cercare Un po' su internet Si trova pochissimo Di Rampage Pieno di video Di riding Cadute Eccetera Ma informazioni Su Rampage E video dove spiegano Che cosa è Rampage Io non ho trovati Quindi spero che questo video Vi sia piaciuto Scrivetemi nei commenti Che cosa ne pensate Quindi di questo video E fatemi sapere anche Se quello che vi ho detto Rispetto alla mia decisione Di non fare Rampage Vi sembra corretto o no Giusto perché Voglio avere un vostro parere Ricordatevi di fare Quindi video sigla Che io veramente aspetto E metterò in ogni mio video Almeno uno di questi video E basta Noi ci vediamo A un prossimo video E' morta anche la luce Quindi vuol dire che E' finito Si è spenta Bella